... Ministro, quindi domani ischia da bianca? Aspettiamo di discutere, vediamo che proposte c'è in campo. Penso di sì però. Ma prima aspettate i nomi. Di solito è la bianca, sì, è la prima. Però vediamo. Ma quei nomi che si fanno non li votereste, ma c'è anche lei. La russa, Calderone, Calderone, no. Ci mancherebbe, grazie. Grazie. Per il senso di presidenza e speranza? No, non me ne sono occupato. Invece abbiamo letto che l'ETA ha appena detto durante la riunione che saranno due donne capogruppo. Ne discuteremo la prossima settimana, questa è la valutazione, ancora è presto, bisogna discutere. Però la linea sembra essere tracciata, nel senso che si dà spazio al... Non lo so, c'è un'autonomia dei gruppi, credo che vada sempre rispettata. Grazie. Finito, senta, c'è margine ancora per ricostruire un campo largo all'opposizione? Io credo che chi è all'opposizione deve dialogare, questa credo che sia una cosa normale. Vedo che in queste ore ci sono toni molto conflittuali, ma penso che siano destinati ad essere superati perché la campagna elettorale è finita. Grazie. Forse è il posto Draghi che ha aperto una ferita, diciamo, alla fine del Governo 9, che ha aperto una ferita nei rapporti tra i 5 Stelle, che sembra insanabile, che non si può sanare. Ma no, vediamo. Ora è il momento di rimettersi al lavoro e poi si vedrà in Parlamento, si vedrà nel Paese quello che accade. Grazie. Grazie.